E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è VRC3 E' amici di youtube, amici di frutta, no, bentornati qui con un nuovissimo episodio di VRC3 Road to Glory, siamo sempre qui in modalità Road to Glory, niente, andiamo avanti con il video, con le prossime gare, buona visione a tutti, ci sentiamo per i costruiti, commenti finali. Grazie 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 Il Drift contest è uno degli eventi più spettacolari e apprezzati dal pubblico, farvi rappare un'auto non è poi così complicato. Il difficile è averli in totale controllo in ogni momento. Grazie per la visione! 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 Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Amici di YouTube. Se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal, nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.